Il fratello Maggiore C'è di aver constatato che abbiamo fatto dei grandi miglioramenti Soprattutto già dalla partita con l'Arzanese Spercato solamente per il gol Poi dobbiamo segnalare anche l'amico Petrocco Al di là di condizione fisica Manca solo forse l'amalgama della squadra In questo caso il prof ci ha dato buone direttive durante il ritiro Bisogna stare solamente a noi Stare al campo e far dare i frutti del nostro lavoro Speriamo di dare delle soddisfazioni a questo pubblico davvero caloroso stasera